E' assolutamente, è un volere di imparizzare alcuni concetti che sono stati apprezzati al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al discorso del Consiglio Comunale. E' un volere di imparizzare al Consiglio Comunale.